Walter Bolognanni, CT della Nazionale Giovanile di Nuoto, presente come ogni anno al meeting Don Guglielmo qui presso la struttura dell'M2 di Campo di Pietra. Possiamo già fare un sunto della manifestazione? L'inizio è sicuramente incoraggiante, vuoi per il numero di partecipanti, quanto per la qualità degli stessi. Il meeting di M2 è senza dubbio uno dei momenti agonistici giovanili più importanti del sud della nostra penisola. Nomi importanti ne sono presenti, tra questi i fratelli De Tullio, uno nella Nazionale Ragazzi già presente alla Comen, Coppa del Mediterraneo e più volte vincitore di medaglie d'oro. Il fratello Marco, con un palmares assolutamente importante, con l'ultimo al suo alloro ai giochi olimpici giovanili a Buenos Aires nello scorso ottobre. Poi ci sono le ragazze sempre pugliesi, nell'ordine Piscopiello, Gaetani, che sono tra le due delle più importanti e promettenti ragazzine del futuro natatorio italiano. Gaetani, ricordiamo, primatista italiano nei 100 e 200 d'orso categorie ragazzi. Quindi un evento che esalta quanto sia importante e notevole un'organizzazione di una manifestazione agonistica per il nuoto nel sud dell'Italia. Ecco, nelle sue parole che ho ascoltato attentamente, ho sentito che lei ha detto una fra le manifestazioni natatorie più importanti del sud. Ovviamente come darle torto, anzi i numeri testimoniano proprio questo, confermano questa sua teoria. Senza dubbio, M2 si è distinta per una volontà di emergere nel senso positivo del termine, quanto a capacità di organizzare e di realizzare eventi che siano interessanti per tutta la penisola. Questo nella parte regionale dell'Italia è un po' più complicato, ci sono difficoltà di carattere organizzativo, logistico, di vario tipo. Non perché al nord sia tutto bello e al sud sia tutto brutto, assolutamente, casomai è il contrario in molte situazioni. Però ecco, per quanto concerne il nuoto, quello di Campobasso è un appuntamento che viene riproposto da più anni, che ha cresciuto con la presenza di atleti sempre più importanti. Mi ricordo che la quadarella che ha vinto tre titoli europei assoluti a Glasgow quest'estate è già stata qui, per dirne soltanto una. E poi è come apertura di una stagione agonistica importante come questa che ci porterà al campionato del mondo sia Juniors che Assoluto e che anticipa quello che sarà il momento di febbraio, dove ci sarà la seconda appuntamento agonistico organizzato da M2, quindi qui in questo splendido impianto, dove ci saranno nomi molto importanti del nuoto assoluto italiano.